Pensando al futuro, guardando al passato, il nostro progetto è finalizzato a promuovere prodotti tipici dell'agronocerino sarnese, uno tra tutti il pomodoro san marzano. Per garantire un futuro sano bisogna che i consumatori utilizzino prodotti di qualità. Pertanto il nostro scopo è produrre sementi. Questi sementi sono ottenuti da ecotipi selezionati per linea pura di cui si sta perdendo traccia. Questi ecotipi hanno delle caratteristiche organolettiche specifiche, caratteristiche che non sempre ritroviamo sui prodotti disponibili sul mercato. La scelta è ricaduta sul pomodoro san marzano, ricco di ricopeine, che risulta essere un antitumorale naturale. In questo modo garantiamo anche il futuro lavorativo dell'indotto agricolo dell'agronocerino sarnese. Produrre qualità per vivere sano.